E se ti dicessi che c'è un fondo comune di investimento che nel 2022 ha fatto il 22,4% di performance, ben di più di qualunque ETF oppure di qualunque mercato nel 2022? Scopriamolo insieme! Ciao da Walter! Pochi giorni fa un lettore ci ha scritto in redazione per dirci ma io non ho le capacità di trovare il mio fondo da solo. Come faccio? Bene, spesso basta andare su RendimentoFondi per trovare le buone occasioni. Guardiamo insieme questo articolo proposto solamente un mesetto fa. Bene, questo è un articolo che potete trovare su RendimentoFondi.it gratuitamente e in questo articolo abbiamo parlato di questo Fidelity Active Strategy che è davvero un bomber, davvero il Ronaldo dei fondi di investimento. Perché, come dicevo, ha avuto una performance straordinaria nel 2022. Ecco qua, iniziamo a vedere la peculiarità di questo fondo, ovvero è un fondo long e short. Quindi è un fondo che è in grado di guadagnare sia se il mercato sale e sia se il mercato scende. È un fondo ad accumulazione, è un nazionario internazionale FlexCap ed è nato nel 2014. Quindi inizia già ad avere anche un interessante storico da analizzare. Ecco, come abbiamo detto, è un fondo long short. Ad essere sinceri, esistono anche degli ETF ormai attivi, fintamente attivi, più o meno attivi, più o meno long short. Però esiste una gran bella differenza, lascia che te lo dica, dall'avere un team di esperti al tuo servizio che sanno come si muove l'economia, piuttosto che non avere un algoritmo che non sa come si muove l'economia. Ebbene, guardiamo ad esempio come viene ripartito il portafoglio di questo fondo. Ebbene, vediamo che tra i settori maggiormente utilizzati sono quelli che ovviamente sono i settori che si sono mossi meglio durante il 2022. Quindi i generi di largo consumo, ad esempio, e i beni di consumo. Ma non solo, guardiamo anche la ripartizione per paese, perché a volte può essere anche un po' noioso andare a guardare questi numeri, ma si possono scoprire tante cose interessanti. Innanzitutto, vediamo come al primo posto nell'esposizione long troviamo il Regno Unito. Il Fuzzi 100, noi anche sul nostro magazine, per tutto il 2022, abbiamo sempre commentato come il Fuzzi 100, ovvero il mercato di Londra, fosse quello che ha patito assolutamente di meno l'andamento ribassista del mercato rispetto ad altri mercati. Infatti abbiamo un buy di Trendycator che è scattato a dicembre del 2020 e ancora è in essere tuttora. E magari va a sapere che il gestore di questo fondo non è un abbonato di rendimento fondi. Ebbene, noi abbiamo un titolo, un indice, il Fuzzi 100, che ad aprile aveva ritoccato i nuovi massimi. Poco dopo, ad agosto, no, a giugno, era andato nuovamente vicino. Ad agosto 2022 è andato nuovamente vicino, poi è sceso un pochettino fino ad arrivare adesso nuovamente a toccare i massimi. Ebbene, non è un caso che il gestore abbia deciso di avere una forte esposizione sul Regno Unito. Ultimamente è aumentata anche l'esposizione sulla Cina. Abbiamo anche parlato, ad esempio, della Cina poco tempo fa. Guardiamolo, ad esempio, l'andamento della Cina. Vediamo come l'indice di Shanghai, lo Shenzhen CSI 300, sia arrivato ad un interessante bottom che ha coinciso con questi minimi del 2020. E abbiamo, ad esempio, un oscillator che è in divergenza positiva. E quindi un bottom con un'interessante divergenza positiva. E guardiamo come abbia iniziato a salire rompendo la precedente trendline ribassista, ad esempio. Ecco qua, questa è la trendline ribassista. Vediamo come l'indice abbia già rotto il rialzo della trendline ribassista. Ebbene, ma continuiamo. Poi c'è gli Stati Uniti. Vediamo come, ad esempio, l'esposizione sugli Stati Uniti sia stata praticamente azzerata come esposizione complessiva. Perché rimane ancora una esposizione netta appena del 5%. Tra il bilanciamento, tra l'esposizione long e l'esposizione short, rimane ancora un 5%. Molto bene. Quindi, di fatto, è una posizione che è stata neutralizzata dal gestore. E non è un caso neanche in questo caso, proprio perché l'SP500, così come il Nasdaq, sono i mercati in questo momento ancora che rimangono un pochettino più deboli rispetto ad altri. Bene, abbiamo visto quindi come il gestore sia effettivamente molto bravo nel fare il suo lavoro. E guardiamo l'andamento del fondo, è un andamento davvero disarmante. In tutto il 2022 non c'è stato un minimo accenno di inalzamento della volatilità. E ti dirò di più che nel 2023, oggi siamo al 19%, in queste prime tre settimane, ha già fatto il 9% in più rispetto ai 22% precedenti. E non accenna minimamente a diminuire. Se noi guardiamo anche tutto l'andamento storico, notiamo comunque un andamento che, ovviamente, a parte lo shock di tutti del 2020, però è stato un andamento assolutamente apocalittico. Se noi pensiamo di eliminare questa fase qua del 2020, avremmo davvero una linea retta a 45 gradi. Bene, ovviamente potrai storcere il naso e dire sì, però gli andamenti passati non sono rappresentativi del futuro. È vero, però è anche vero che quando un gestore è bravo gli va dato atto. E sicuramente sarà presumibilmente più facile che nel futuro un gestore bravo sia in grado di ripetere le sue performance, piuttosto che affidarci ad un semplice replicante passivo, oppure ad un algoritmo che non sappiamo che cosa fa. È vero anche che i dati finanziari che ti ho presentato prima generalmente sono un po' in ritardo perché i fondi non sono sempre così cristallini nel presentare con puntualità dove e quanto investono. Anche quello è vero, ma è sempre meglio però sapere a grandi linee quello che fa un fondo piuttosto che non sapere per nulla quello che fa un ETF. Dipende ovviamente dai gusti personali. Sappiamo anche che i fondi sono cari, sicuramente costa di più il TER di un fondo rispetto al TER di un ETF e nel caso in cui il gestore non sia particolarmente bravo, ovviamente è un aggravante. Quindi sta a noi andare a trovare i fondi giusti. Bene, ma allora come abbiamo fatto a trovare questo fondo per voi? È molto semplice, grazie al nostro indicatore proprietario ETI. È un indicatore che esiste solamente su Rendimento Fondi, non lo puoi trovare da nessun'altra parte. Ti invito a venire su Rendimento Fondi per scoprire che cos'è ETI. E nella sezione Topofeti, dove noi abbiamo raggruppato tutti i migliori, trovi anche ovviamente quello di cui stiamo parlando. Quindi come vedi non hai bisogno di avere particolari abilità nel trovare il fondo migliore su Rendimento Fondi. Devi solo ovviamente dotarti degli strumenti giusti. Ti aspetto nel prossimo video qui sul nostro canale.